Una parte di Polifemo dedicata alla vivibilità, anzi alla invivibilità urbana, mi riferisco al disagio enorme, ai disagi enormi provocati in via Cesare Battisti a Taranto dalla installazione dei cordoli, un provvedimento davvero scelerato. Per una serie di ragioni che scopriremo, ma che sono evidenti sotto gli occhi di tutti, li scopriremo attraverso la viva voce dei commercianti, soprattutto un disagio plurimo sotto vari aspetti. Vedete, diventa innanzitutto difficile, blocca il flusso veicolare, persino una uscita da un parcheggio, una semplice retromarcia ovviamente con la presenza del cordolo blocca proprio il transito, il flusso veicolare. Per non parlare poi dei disagi enormi che vivono i commercianti dal momento che il carico o scarico diventa praticamente impossibile, perché i furgoni che devono consegnare il materiale trovano i posti, i parcheggi riservati al carico o scarico perennemente occupati. Si aggiunge il fatto che si notano pochi vigili urbani in zona, ci vorrebbe un maggiore dislocamento dei vigili urbani, così come la presenza degli ausiliari del traffico sembra quasi invisibile. Se ne vedono davvero pochissimi. Vigili e ausiliari del traffico potevano certamente rappresentare e possono rappresentare uno strumento migliore per disciplinare il traffico, anziché arrivare alla installazione dei cordoli. Dicevamo, mi riferisco al carico e scarico, parliamo di questo argomento, diventa difficile per un furgone consegnare qualcosa alle attività commerciali. E allora vedete questi furgoni che devono girare e rigirare. Non c'è il tempo e lo spazio di prendersi un caffè, di fare una fermata innocente dinnanzi ad un bar, perché di fatto manca lo spazio. Noi non vogliamo legittimare la doppia fila, ci mancherebbe altro, è illegittima, ma voglio dire un minimo di tolleranza poteva servire anche ad aiutare una economia davvero moribonda. Perché ora a causa di questo cordolo il flusso veicolare, il flusso dei clienti che si fermavano nelle attività commerciali per fare acquisti è calato terribilmente e quindi chiaramente i commercianti hanno fatto registrare, hanno registrato un calo sensibile nelle entrate. Vedete l'economia si blocca. Questi cordoli hanno anche una loro ricaduta negativa dal punto di vista sociale per varie ragioni, perché se io penso per esempio a un negozio per apparecchi acustici, tanto per dirne una. Beh, prima la persona anziana veniva accompagnata da qualche altro, dal semplice accompagnatore, ci si fermava un attimo in doppia fila, si faceva entrare il vecchietto, la vecchietta e poi magari andava a parcheggiare. Ora ciò non è più possibile. Per non parlare poi dei cordoli stessi che rappresentano una trappola per i più anziani. Tantissime sono state le cadute che si sono verificate e che sono purtroppo certificate dai referti del 118. Una decisione, quella di installare il cordolo, davvero scelerata, che l'amministrazione comunale di Taranto ha preso per così dire inaudita altera parte. Non ha voluto ascoltare gli operatori commerciali e i tanti input, le tante proposte lanciate da Confcommercio sono miseramente cadute nel vuoto per dare spazio ad una decisione assolutamente verticistica e che non ha tenuto conto e che non tiene conto del disagio degli operatori commerciali. Ma questa è una summa delle tante criticità. Potremmo pensare anche al parcheggio di via Icco, che è quasi invisibile. Non c'è un cartello bello grande e grosso che ne indichi la presenza di modo che i veicoli, le automobili possano capire, sapere dov'è e parcheggiare invece di congestionare il traffico. Va sottolineato un ultimo aspetto. Via Cesare Battisti è una strada comunque stretta, non è larghissima e aver realizzato qui una corsia preferenziale per gli autobus, aver destinato qui in via Cesare Battisti il transito degli autobus è stata certamente una scelta infelice. Vedete, ci sarebbe molto su cui riflettere. L'amministrazione ha detto che questo di installare il cordolo è un provvedimento così sperimentale, temporaneo. Speriamo che, come dire, Melius Reperpensa, meglio approfondito e studiato l'argomento, si possa arrivare a nuove decisioni, a nuovi provvedimenti in favore del cittadino e degli operatori commerciali. Via Cesare Battisti è qui il regno del disagio, ma questo disagio noi proprio ve lo faremo vivere attraverso la viva voce dei commercianti. Per comprendere il disagio arrecato dai cordoli in via Cesare Battisti agli operatori commerciali e ai cittadini, cerchiamo proprio di sentire dalla viva voce degli operatori commerciali le loro lagnanze. Siamo infatti con il signor Luigi De Marco del Bar Italo, sito in via Cesare Battisti 17. Signor De Marco, ci esprima le sue sofferenze, quelle della categoria? Sì, vabbè, è chiaro che questa soluzione di questi cordoli messi in Cesare Battisti hanno solamente procurato disagi sia la circolazione e poi ci hanno recato sinceramente danni, a meno parlo della nostra tipologia di lavoro, che sarebbe quella della colazione veloce dei 5-10 minuti che la gente sosta da noi. Il mordi e fuggi ci si ferma un momentino con una sana e non dannosa doppia fila, noi non vogliamo legittimare la doppia fila, ma il mordi e fuggi deve essere tollerato. La possibilità di poter parcheggiare con i 5-10 minuti che adesso chiaramente non c'è più e ci ha recato chiaramente danni notevoli perché abbiamo perso almeno, volendo quantificare almeno un 30% sulle nostre entrate. L'altro aspetto negativo è che questa decisione vi è calata, vi è caduta tra capo e collo senza che foste stati preventivamente coinvolti, cointeressati. Sì, ma infatti anche in società con la nostra associazione sapevamo che avevamo un certo tipo di intervento che doveva essere effettuato, tipo che doveva essere delle soluzioni per ovviare a questi cordoli. E invece nulla. Invece non c'è stata data proprio il tempo né di ragionare, sono passati due o tre giorni da quando c'è stato il primo avviso e chiaramente non c'è stata la possibilità di poter organizzare nessun tipo di soluzione da poter ovviare a questi cordoli e quindi ce li siamo ritrovati da loro al giorno domani e chiaramente il disagio ha portato del malessere. Chiaramente anche con i cittadini, l'ultimo caso è successo a Vantieri, di un signore, di un cliente che stava attraversando la strada ed è caduto ed è intervenuta il 118. Perché chiaramente hanno portato un po' di disagio a questi cordoli. Come vedete signori dell'amministrazione comunale i disagi sono evidenti e penalizzare gli operatori commerciali, i titolari delle varie attività presenti in via Cesare Battisti e non solo significa dare un colpo forse mortale alla già moribonda economia ionica. C'è un aspetto raccapricciante in via Cesare Battisti il fatto che le aree adibite a carico e scarico puntualmente sono occupate da auto di cittadini. Certamente dobbiamo strigliare chi si comporta in maniera tutt'altro che civile e tutt'altro che urbana ma è la prova provata che questi cordoli non fanno altro che creare ulteriore disagio perché il camion, il camioncino, il furgone che trasporta, che deve consegnare del materiale dove lo consegna? Come fa a fermarsi dal momento che le aree adibite a carico e scarico sono quasi sempre, per non dire sempre, occupate? E allora in una situazione si fatta, aver messo il cordolo, aver messo i cordoli significa veramente far impazzire coloro i quali devono scaricare la merce, far impazzire i negozianti che devono ricevere la merce e fare impazzire i cittadini che si trovano soprattutto nelle ore di punta il traffico maledettamente e terribilmente congestionato. E allora prima di installare i cordoli si sarebbe dovuto fare uno studio della problematica ma evidentemente vale la logica sic volo, sic iubeo, così voglio e così ordino. Tanto che poi i cittadini e i commercianti ci rimettano le penne e soprattutto vengano colpiti alla tasca evidentemente all'amministrazione comunale non frega più di tanto. I parcheggi riservati al carico e scarico, le aree riservate al carico e scarico in via Cesare Battisti stanno diventando davvero la dannazione dei commercianti perché ovviamente i vari furgoni arrivano devono scaricare e consegnare la merce e devono fare il giro-girotondo 50.000 volte per fermarsi un attimo. Allora quando non c'erano i cordoli una sosta in doppia fila mordi e fuggi giusto per consegnare si poteva fare. Ora ciò non è più possibile. In effetti, se voi vedete abbiamo avuto un'area adesso per scarico, ma è sempre occupata. E siccome il mio settore è merceologico, tutti i giorni... Ecco, lei è la signora? Tina Serafino. E qui siamo davanti all'esercizio commerciale. Punto shop e fragranze, sono due punti di vendita. Le stavo dicendo, siccome il punto shop tutti i giorni arriva merce, ma purtroppo abbiamo problemi per scaricare la merce. Poi i cordoli non vi dico, è stato un macello perché addirittura si crea una fila, quando è fermo il semaforo, da Piazza Ramellini, forse lei non ci crederà, diventa una fila e la gente non può neanche uscire dal proprio parcheggio. Ecco, ma ora è niente perché siamo in estate. Lo sottolineavo, cosa succederà con la riapertura delle scuole? A settembre, il problema a settembre. Ci hanno creato veramente dei problemi seri, perché questa città non permette assolutamente, per un fatto di logistica, non perché adesso è una presa di posizione da parte di noi commerciali, perché noi vogliamo il meglio per la nostra città. Però questo non è il meglio. Io non lo so con quale criterio hanno potuto realizzare questo, perché noi stiamo avendo dei problemi seri. A prescindere ai lavorativi, la doppia fila io sono d'accordo, non si deve fare. Però la tolleranza ci deve essere. La tolleranza ci deve essere, perché questa città non permette. Anche perché stiamo parlando di via Cesare Battisti, che è un'arteria comunque stretta. Non è che stiamo parlando degli Champs-Élysées di Parigi. A prescindere che sono quattro corsie. Qui appena appena era una corsia, ma è diventata mezza corsia. Le ripeto, quando c'è il semaforo e si crea una fila lunga, la gente deve aspettare per poter uscire anche dal proprio parcheggio. Le ripeto, mi scusi se sono ripetitiva. E poi il problema nostro è quello che non possono scaricare la merce. Voglio dire, non solo per me, perché l'area di scarico è per tutti i commercianti. Però io che ogni giorno arriva merce, proprio non è fattibile. Non lo so. Speriamo che prendano dei provvedimenti al più presto. Beh, hanno detto che il provvedimento è sperimentale. Speriamo che sia un fatto, come dire, davvero sperimentale e che si rendano conto i signori amministratori della frittata, per non dire qualche altra parola più pesante, che hanno combinato. Il caos che si crea, e ritorniamo sull'argomento, una strada che già di per sé è stretta, si ingolfa maledettamente. Non oso immaginare, ora stiamo registrando e sono circa le 18.20, ma immaginate cosa accadrà in autunno, in inverno, in primavera, con la riapertura delle scuole. Sarà un inferno, il traffico andrà in tilt. Vedete anche come procedono lentamente, di fatto, le macchine. Procedono in fila indiana e poi ci si lamenta che per ore e ore si impiegano ore e ore per arrivare a destinazione. Questi cordoli di via Cesare Battisti rappresentano davvero un pericolo per i più anziani. Comprendete bene che a una certa età i movimenti sono abbastanza rallentati e poco coordinati e allora per un anziano è molto facile inciampare nel cordolo, non riuscire a scavalcare il cordolo e trovarsi purtroppo di faccia a terra, cosa che il farmacista, il dottor Spagnolo, ha visto con i suoi occhi e ovviamente ha dovuto soccorrere questi anziani caduti per terra. Sì, sì, indubbiamente è così. Purtroppo il fatto che la gente deve stare a guardare se arrivano macchine ha problemi per guardare per terra e quindi siamo dovuti intervenire più di qualche volta, non solo noi ma anche chiamare l'autolettiglia per far sì che la gente venisse soccorsa. Poi lei si trova, peraltro, piove sul bagnato perché lei, io non conoscevo il dottor Spagnolo, mi ha fermato e mi ha detto intervenite, segnalate il problema prima che mi ritrovi un autobus all'interno della farmacia. Di cosa si tratta? Come vede purtroppo sta cedendo questa griglia e siccome passano questi autobus pesanti purtroppo abbiamo questa necessità che il Comune intervenga perché ho fatto segnalazioni un po' a tutti quanti, vigili compresi, facendo presente il problema che si pone. Come vedete via Cesare Battisti è davvero un inferno tra cordoli, traffico che va in tilt, impazzisce, marciapiedi e manto stradale che sprofondano con rischi per la pubblica incolumità. E ciò nonostante qualche scienziato ha avuto l'ardire di far installare i cordoli. Non ci sono parole. Ecco, vedete proprio in presa diretta il pullman che passa, che transita e queste grate che prima o poi davvero sprofonderanno ancora più di quanto già stanno facendo registrare un abbassamento di livello del manto stradale. Siccome siamo una realtà libera e siamo la televisione della città, abbiamo un amico, non ci conosciamo, un cittadino tarantino che vuole dirci qualcosa. La rabbia monta in maniera veramente esponenziale. Niente, buonasera. Io ho praticamente un negozietto qui, una piccola ferramenta. Il problema sorge quando deve venire un terra a scaricare, che non può scaricare per il fila del cordolo che hanno messo. Ci sono stati dei vigili che hanno messo lì una zona carica e scarico senza orario e l'hanno messa sulle strisce dove ci sono i parcheggi a pagamento. Praticamente ci sono strisce blu e strisce gialle per carico e scarico. Quando vengono per scaricare ovviamente trovano le macchine parcheggiate sul parcheggio a pagamento. È incredibile. E non sappiamo effettivamente come fare. L'altro giorno ho dovuto portare dall'altro angolo, fermarsi lì in doppia fila per poter portare la merce a me. Siamo in questa situazione. Purtroppo non sappiamo cosa fare. Le maggiori vittime del disagio procurato dalla installazione dei cordoli in via Cesare Battisti sono i commercianti, gli operatori commerciali. E stiamo ascoltando il parere di più operatori di settori merceologici diversi. E si arriva purtroppo ad una conclusione comune che questi cordoli comportano anche un calo delle vendite. Considerando l'economia tarantina che è già langue, come dire, piove sul bagnato. I cordoli sono un problema veramente serio perché non solo calo delle vendite per quanto riguarda i commercianti in tutta la via, ma problema logistico di traffico, quindi un traffico mostruoso. Si crea invece dei battisti blocco di persone che suonano. Si lamentano anche i residenti stessi della stessa via per ovviamente l'acustica che è aumentata da quando hanno montato i cordoli. macchine che non riescono a passare, ho visto addirittura camion molto grandi che con le ruote vanno addirittura sopra i cordoli perché ovviamente queste strade non permettono il passaggio di questi grandi mezzi. Non ci sono le sosse di carico e scarico, quindi tutti... O meglio, quelle poche che ci sono sono perennemente occupate. Sono perennemente occupate e ovviamente, dato che questa via ci sono tanti negozi, non c'è spazio per tutte le attività che devono scaricare, caricare, eccetera, eccetera. UPS, TNT hanno una difficoltà enorme, quindi hanno creato veramente un disagio pazzesco questi cordoli. Come dire via Cesare Battisti con i cordoli e qui l'inferno. Diretta il disagio che si crea, un'auto esce dal parcheggio e per una semplice uscita ovviamente si blocca il traffico. Parliamo di una semplice uscita, di una semplice entrata. Guardate lì, guardate lì, una semplice macchina, qui siamo ostruiti dal pullman, una semplice macchina che sta cercando, mi pare di uscire dal parcheggio, si congestiona il traffico. Guardate, scusatemi l'espressione, che casino. Tra l'altro per chi parcheggia ha anche difficoltà nell'uscire dal parcheggio, perché le manovre con questi cordoli sono praticamente impossibili da fare. E teniamo conto che questo è il mese di agosto, dove ci sono meno macchine, quindi non posso immaginare cosa possa essere questa via nel mese di novembre o nel mese di dicembre. Un caos totale. C'è un'altra contraddizione in via Cesare Battisti. Mentre il traffico a causa dei cordoli davvero impazzisce, va in tilt, soprattutto nelle ore di punta, scopriamo, anzi lo sapevamo, ma vogliamo meglio evidenziarlo alla vostra attenzione, che proprio in via Icco c'è il parcheggio di piazza Icco. Però non c'è una insegna, una scritta, bella, visibile, grande, che, come dire, avvisi i cittadini dell'esistenza di questo parcheggio. E allora, se vi fosse una scritta visibile, ben visibile appunto, il cittadino tranquillamente potrebbe deviare e parcheggiare lì. Lo vedete, libero, ma è un'insegna luminosa molto piccola e molto distante, quando invece sarebbe certamente più opportuno una bella insegna, piazzata qui o piazzata lì, come dire, un'insegna luminosa, lampeggiante, che inviti il cittadino a parcheggiare in questo parcheggio che quasi sempre è deserto. Vedete, c'è una programmazione carente da parte dell'amministrazione comunale e molte volte la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Si va avanti a furia e a forza di provvedimenti, ma questi provvedimenti non sono, come dire, messi in connessione tra loro. E questo parcheggio, quello di piazza Icco, giace tristemente deserto. Succede in via Cesare Battisti un lieve ritardo dello scattare del semaforo ed ecco che il traffico, a causa soprattutto dei cordoli, si congestiona. Diventa davvero difficile anche uscire da un parcheggio, ovviamente, in retromarcia. Parliamo di una strada che comunque è stretta e chiaramente, ovviamente, i cordoli la affogano e affossano ancora di più. C'è un cittadino che vuole dirci qualcosa al volo? Ma è incredibile, non possiamo nemmeno uscire con le auto, insomma, perché è tutto bloccato. Poi immagina lei, insomma, voglio dire. Vedete, è una situazione davvero incredibile, una situazione che è sotto gli occhi di tutti e solo un'amministrazione cieca non può guardare, fa finta, evidentemente, di notare, di vedere certe ovvietà. Stiamo monitorando un po' la situazione di via Cesare Battisti alla luce, appunto, dei cordoli sventuratamente installati e ci confrontiamo ora con il titolare del bar Idilium. Siamo partiti da Piazza Ramellini e via via ci stiamo spostando. Ora siamo a un 200-300 metri, 400 metri da via Marco Pacuvio. Insomma, penso che questi cordoli stiano creando un disagio. Vedete le doppie file, la strada che si restringe terribilmente e ovviamente diventa per voi una fortuna avere il cliente che trova una briciola di posto per fermarsi un attimo e consumare qualcosa al bar. Buonasera a tutti, innanzitutto. Comunque, per quello che mi riguarda, il cordolo, se visto come una struttura in sé, fatta, messa e lasciata lì, abbandonata lì, sicuramente è un disagio. Io sono per le regole. Sicuramente il cordolo deve servire per regolamentare quello che è il traffico, suddividere la corsia del pullman a quello degli automobili, ma non deve essere un deterrente per la doppia fila. Cioè, se si monta un cordolo per evitare che l'automobilista si fermi in doppia fila, secondo me, a mio parere, non è la giusta azione da compiere. Ma anche perché la strada comunque è stretta. La strada è stretta. Io credo che se il cordolo deve esistere, oltre al cordolo deve funzionare qualcos'altro. Questo lo dissi anche a alcuni vigili che vennero qui una mattina con cui discutemmo tranquillamente di quello che si stava facendo. Al cordolo, secondo me, andrebbero aggiunte, qualora si volesse fare un qualcosa fatto per bene, vanno aggiunte altre funzionalità. Noi dobbiamo tenere presente che su questo isolato non vediamo la funzionalità degli ausiliari del traffico da giorni, giorni e giorni. Non si vedono gli ausiliari del traffico. Allora, personalmente, io vado anche a parcheggiare dietro a Muraglione, in via Limitrofe, per evitare magari di occupare posti per il consumatore del bar o di altri punti commerciali qui vicino. Ma se io tolgo la mia auto di qui, nel momento in cui io parcheggio lì, qualche altro... La occupa. Se funzionasse il servizio degli ausiliari, io credo che si creerebbe un turnover di parcheggio e quindi il cordolo, la doppia fila, non sarebbero più un problema. Il periodo di Natale, quando i cordoli non c'erano, ma c'erano delle ronde vere e proprie fatte dalle pattuglie dei vigili urbani che giustamente facevano rispettare il traffico, non facevano fermare le macchine in doppia fila, non facevano passare le macchine sulla corsia di Pullman e c'erano gli ausiliari del traffico. Nel periodo di Natale dell'anno scorso qui si è lavorato benissimo perché i posti erano in continuo movimento, macchine entravano e macchine uscivano. Io con un amico della ConfCommercio mi feci un giro una sera, abbiamo contato 18 macchine di nostra conoscenza che appartenevano a lavoratori o commercianti dipendenti o titolari. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Se non ci sono i posti per parcheggiare perché siamo noi i primi a parcheggiarli, perché non c'è una regola che va a disciplinare quello che... Per esempio, un'idea potrebbe essere, come dire, dei parcheggi, delle tariffe molto ridotte a tempo determinatissimo 10 minuti in modo che non costa niente alla fine pagare 20 centesimi per una breve sosta e poi prendersi un caffè e un cornetto. Guardi, c'è già una tolleranza di 15 minuti. Se si parcheggia l'auto, l'ausiliare del traffico per 15 minuti non fa il verbale. Allora, già questa tolleranza è sufficiente. Se poi io metto 20 centesimi e sto oltre 15 minuti, in realtà con 20 centesimi... Non costa niente, si sta una mezz'oretta. Perfetto. Ma se questo non funziona e mettiamo il cordolo e poi spariscono tutti di qui, non ci sono ausiliari, non ci sono vigili che evitano che la doppia fila comunque si crei. Si crea solo un ingorgo alla circolazione, traffico, nient'altro. Cioè, andiamo a peggiorare quella che è la situazione della viabilità. Non andiamo a risolvere alcun problema. Profumeria Rouge Noir, via Cesare Battisti. Beh, siamo con il titolare di questa attività commerciale. Beh, sicuramente i cordoli, la installazione dei cordoli, non hanno rappresentato certamente un beneficio. Traffico che impazzisce e vendite che ovviamente calano. Cosa è cambiato in queste ultime settimane da quando sono stati appunto sistemati, installati questi cordoli? Io partirei da una considerazione innanzitutto che stiamo attraversando un periodo di grossa criticità, non soltanto per i cordoli. E quindi il modificare o anche se migliorare una situazione spaventa il commerciante. In questa situazione con i cordoli chiaramente abbiamo avuto un abbattimento dei consumi, una contrazione dei consumi che va intorno al 20-25%. Dovuto non tanto al fatto dei cordoli quanto alla difficoltà della viabilità lenta che si verifica su Cesare Battisti. Per cui la gente invece di arrivare in questi posti qua svia completamente la strada e ritorna indietro. Certamente è stata una decisione che rispetto alla quale non siete stati coinvolti è piombata così e si è detto questo è il cordolo, tenetevelo. Anche questo magari si è verificato e occorreva magari anche sentire i commercianti stessi fare un tavolo di concertazione e vedere un attimo quello che era possibile e quali fossero le nostre proposte in merito. Per cui alla fine si è verificato tutto un tratto questa situazione. Io spero che magari ci sia un approccio diverso e come magari il parcheggio di Piazza Icco dopo che magari è stato migliorato da quella situazione che era fatiscente e c'è una situazione magari a questo punto Deve essere tra virgolette pubblicizzato. Deve essere pubblicizzato. ci vuole un'insegna molto aggressiva che indichi il parcheggio e poi pubblicizzata perché da noi non c'è la pubblicità. C'è magari anche delle tariffe basse che invitino il cliente a delle convenzioni da parte dei commercianti cui possono dare ai clienti e ai consumatori omaggio il biglietto per quanto riguarda il parcheggio. Via Cesare Battisti siamo dinanzi al panificio Mazzini e ho al mio fianco il signor Armando lo abbiamo un attimo distolto e distratto dalle sue attività proprie del panificio perché la rabbia derivante dal disagio prodotto dai cordoli coinvolge anche e soprattutto la sua attività commerciale. Buonasera vorrei spendere due parole semplicemente mentre prima dei cordoli il problema del traffico era solo l'orario di punta magari dalle 11 e mezza alle 12 si creava la confusione della cosiddetta doppia fila oggi come oggi il caos è in ogni ora magari in ogni ora e in ogni periodo della giornata cominciando dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera e con le scuole cosa succederà con la riapertura delle scuole con le scuole con le feste natalizie con le feste pasquali è tutto un problema futuro molto grave grave ripeto non ho mai visto traffico via Sere Battisti alle 9 di sera o alle 2 di pomeriggio è una via molto scorrevole prima era una via molto scorrevole molto pulita molto ora come ora vedo caos e chiaramente calano i consumi perché il cittadino ha modo in maniera di gran lunga inferiore di fermarsi e consuma di meno e lei guadagna di meno e la moneta circola di meno io come tutti ci ritroviamo almeno il 30-40% di clienti in meno un calo pesante beh direi di sì il 50% avremo già chiuso battente 30-40% è avvito pesante torneremo su via Sere Battisti così come ci dedicheremo ad altre strade che subiscono già o stanno per subire l'invasione dei cordoli lo dobbiamo alle attività commerciali perché fanno tanto per il territorio e non meritano un provvedimento che soffochi ulteriormente le proprie entrate e che bloccano di fatto l'economia ionica l'economia 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 l'economia